carissimi a me l'onore di aprire questi ultimi giorni che ci portano dritti verso il natale passando dalla questa domenica dove c'è stato detto che accogliere la vita quando la vita è fino ad arrivare ad accogliere la vita quando la vita è gioia il natale sarà gioia e in questa settimana la cosa bella che mi colpisce guardando la figura di maria è proprio il pensiero che lei si è affidata a dio ma anche che dio si è tanto affidato a maria e dio si affida a ciascuno di noi natale diventa qualcosa di stupendo di bello se noi riusciamo a fare di questo reciproco affidamento qualcosa qualcosa di grandioso e allora è vero c'è stata la pandemia allora è vero c'è anche tutta la difficoltà del natale che stiamo andando a celebrare che sicuramente diverso da tutti gli altri ma non viene meno la gioia della sua presenza buon natale a tutti quanti nel nome del padre del figlio e dello spirito santo dal vangelo secondo luca in quel tempo l'angelo gabriele fu mandato da dio in una città della galilea chiamata nazareth a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di davide di nome giuseppe la vergine si chiamava maria entrando da lei disse rallegrati piena di grazia il signore è con te prima ancora che maria si affidi all'angelo è dio che si fida di lei rallegrati piena di grazia questa è la prima lieta notizia che consacra il desiderio del padre per essere veramente il dio con noi in altre parole dio dichiara per primo il suo innamoramento nei confronti dell'umanità che trova il suo volto singolare promettente nell'esile figura della vergine di nazareth signore la gioia della tua attesa riempie ai nostri giorni a te e maria affidiamo questi ultimi passi verso il natale perché di colmi di grazia e di serenità recitiamo il padre nostro padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come il cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi rimettiamo ai nostri debitori e non abbandonarci alla tentazione ma liberaci dal male Amen Buon Natale a tutti Buon Natale Buon Natale